Il primo incontro ufficiale tra la Presidente della Regione Calabria Iole Santelli e il primo cittadino di Cosenza Mario Chiuto è stato all'insegna della cordialità e della sintonia d'intenti. Una conversazione a porte chiuse con la sola presenza dell'assessore Caruso che ha accompagnato il Sindaco e dei più stretti collaboratori della Presidente Santelli. Al centro della discussione ci sono stati i tanti progetti in itinere nella città di Cosenza, molti dei quali già programmati con la precedente giunta regionale. Il completamento di Viale Parco e la viabilità alternativa, la realizzazione delle altre opere connesse come piste ciclabili, marciapiedi, fornitura, pulmani elettrici, ovovia, la cessione dell'area ex capannoni delle ferrovie. Opere queste comprese nel protocollo sottoscritto con il Presidente Oliverio. E poi ho chiesto un impegno sul centro storico di accelerare le procedure per quanto riguarda le competenze della regione sulla CIS. Abbiamo perso già due anni e il Comune di Cosenza aveva previsto l'esproprio a danno dei proprietari, dei fabbricati che erano a rischio crollo e quindi anche la successiva rifunzionalizzazione e ricostruzione con alloggi da destinare a giovani coppie o studenti universitari. Tante le richieste del Sindaco Chiuto, tra cui il progetto riguardante le tram di superficie, un maggiore impegno sul welfare e attenzione alla cultura e poi ci sono priorità assolute e non più rinviabili come la raccolta dei rifiuti. Abbiamo anche chiesto una presenza, diciamo, attenda, vigile sulla problematica dei rifiuti perché se la città è sporca qualunque sforzo che noi produciamo, qualunque attività che facciamo diventa inutile. Fare in modo che gli impianti possano accogliere questi rifiuti perché altrimenti tutto lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni anche sulla raccolta differenziata diventa vano. Il Sindaco Chiuto ha poi evidenziato la situazione critica e di emergenza continua in cui versa all'ospedale di Cosenza ed è proprio su quest'ultimo punto che Chiuto ha avanzato una proposta a dir poco rivoluzionaria. Ho chiesto alla Presidente Santelli di avviare le pratiche per la costruzione del nuovo ospedale, di nominare anche come commissario il Sindaco perché in questo modo ho offerto la mia disponibilità anche ad avviare il progetto del nuovo ospedale di Cosenza in modo da portarlo avanti velocemente. Secondo me in tre anni è possibile realizzare questa struttura che avesse diventata di vitale importanza per i cittadini. Tanti gli argomenti affrontati nei quasi due ore di conversazione e tutti, come comunicato dal Sindaco Chiuto, hanno trovato grande attenzione e comprensione da parte del Presidente della Regione, Iole Santelli.